Un bilancio di questa edizione di Sintonie è l'idea, secondo noi, intelligente di portare il video finalmente in una fiera del genere. È stato positivo, è stato sentito questa passione, questa interessante domanda molto coinvolgente, ecco coinvolgimenti dalla parte di utenti finali, quindi siamo contenti di aver portato questa gamma OLED nuova Panasonic. E senti, tra poco meno di un mese ci sarà un altro evento a Roma dove voi sarete presenti, in che modalità, la stessa modalità, ci sarà qualche cambiamento? Dunque, porteremo i Technics come abbiamo fatto fino all'anno scorso, serie di giradischi piuttosto che per tutti i componenti all in one, poi naturalmente anche il nuovo GZ2000 OLED Panasonic. Anche noi stiamo utilizzando Panasonic, in questo caso il lettore, nella sala GVC, tra cui so che c'è una forte collaborazione tra Panasonic e GVC per il proiettore. Abbiamo riscontrato molto interesse sul lettore, soprattutto, sull'applicazione Digital Concert Hall che in pochi conoscono e sul fatto che Panasonic è impegnata in prima linea proprio con la final boni di Berlino per la produzione in 4K. E la domanda è, ma questa applicazione è in tutti i lettori Panasonic o c'è qualche cosa da sapere in più? Ci sono compatibilità con tutte le serie 420, 820 più 9000, naturalmente quello top di gamma, anche la serie 320, 330. Quindi quelli di quest'anno, i 150-450, sono esclusi perché sono dedicati per i lettori disco esclusi, la scelta per un utente finale che utilizza televisore smart per avere servizi OTT, 150-450, quindi non hanno nessuna OTT, tutti gli altri serie sono compatibili con questa app, con Berlino Film Harmony. Fantastico, e quindi arrivederci a Roma, a presto. Bene, arrivederci, grazie mille. Grazie mille.